Le festività di Halloween a Seoul si sono trasformate in una tragedia. Almeno 120 persone sono morte schiacciate dal flusso della folla inarrestabile che si dirigeva verso un bar del quartiere di Itaiwan, dove si stima ci fossero 100.000 persone nel momento della disgrazia. La calca, poi la fiumana di persone che spinge verso una strada più stretta. Lo spazio e l'aria che mancano. Dopo alcuni minuti restano per terra decine di corpi esanimi. Le autorità mobilitano 800 operatori medici e poliziotti per rianimare i corpi. Per molti di loro non c'è stato più nulla da fare. La polizia indaga sulle cause dell'accaduto. Alcuni media locali credono che ad attirare la folla sia stata la presenza di una celebrità.